It's time of dimorph, ragazzi, sono Trick Trick, ben tornati al mio canale e questo oggi siamo qui con un nuovo video dedicato alle guide, alle ranked, dove andremo a vedere tutto quanto quello che ci serve da sapere su Brimberg Hotel, infatti ce l'abbiamo qui davanti. Andremo quindi a vedere il call out, le posizioni delle bombe, tutte le varie heal, eccetera, eccetera. Come al solito, prima di iniziare, vi ricordo di lasciare un bel like, un commento e mi raccomando, fatemi sapere qua sotto se avete qualche richiesta particolare di video che vorreste vedere. Inoltre qua sotto in descrizione, se cercate persone per code, vi ricordo che c'è il server Discord, quindi in caso vi aspetto nel server. E niente, direi di iniziare, tra l'altro avete fatto caso alla nuova folia atomico? Cioè, molto molto più bella. Partiamo dagli spawn, come sempre. Questo è lo spawn di SpecGru per hardpoint o cerche distruggi in attacco, altrimenti è lo spawn per Cortac in controllo in difesa. Questo è lo spawn in difesa per Cortac in hardpoint e cerche distruggi, altrimenti SpecGru spawna qui quando giocano in controllo in attacco. La bomba A si trova in questo punto. La bomba B si troverà invece in questo punto. Il punto di controllo A si trova invece qui, mentre il punto di controllo B si trova in questa zona qua. P1, o la prima postazione, si trova in questa zona qua. P2 si trova in questa zona qui. P3 si trova qui, dove c'è la bomba B. P4 si trova qua sopra. P5 si trova in questa zona dove c'era anche la hill di controllo A. E per finire, P6 si trova qua sopra. Perfetto, adesso partendo da qua in fondo andiamo a vedere tutti i callout della mappa, quindi come si chiamano tutte le varie zone della mappa. Vi dico già che i callout, come vi ho detto anche nello scorso episodio, saranno in inglese. Cercherò alcuni di tradurveli in italiano o di specificare alcune zone in più, che di solito uso in ranked per specificare dei punti, quando ho comunque i miei amici del team, che parliamo tutti italiano. Tenete conto che comunque i callout si basano su quelli rilasciati dai Boston Breach, quindi magari se vi guardate qualche partita di pro, magari alcuni callout sono leggermente diversi, però sappiate che comunque sono presi da uno dei team che gioca in CDL. Quindi partendo da qui, questo sarà ovviamente Spawn. Successivamente qui abbiamo Broken, e questo a me piace chiamarlo Auto di Broken, perché giustamente qua è dove c'è Broken e qui è dove c'è l'Auto. Questo viene chiamato Shandy, che è a brevetito di Shandelier. Qui abbiamo Shop. Dall'altra parte invece, quindi andando su P2, abbiamo Lobby, che è questa qui. Backsteps, che è dove la gente qui, ovviamente si mette qui in Headglitch. Successivamente qua dietro abbiamo Spa, perché questa è una Spa in teoria. E qui possiamo andare qua dentro, dove si chiama Desk. Ma questa zona dove si chiama Desk è collegata a Spa tramite Small. Quindi voi potete chiamare questa zona qui anche Small. Successivamente, come abbiamo detto prima, questo è Desks. Questo secondo me si può chiamare Headglitch, perché vi potete mettere qui. Successivamente questa è Big Door. Questo viene chiamato God Desk, ma noi lo chiamiamo Reception. Questo infatti da molti viene chiamato Reception, però non so per quale motivo i Boston lo chiamano God Desk. Questo viene chiamato Single, perché è un arco. E questo invece viene chiamato Statue, perché c'è questa statua qua. Passando da qui, abbiamo Doubles, che sono i doppi archi. Chiamateli anche i doppi archi, se volete. Questo si può chiamare Desk, perché è comunque uguale al modello che troviamo là dietro. E già che siamo qui, questa zona si chiama Bar. Successivamente questo è il punto di controllo B, vi ricordo. Quindi qua potete specificare voi come preferite come chiamare queste zone qui. E io direi adesso di andare da questa parte qui, per poi ritornare indietro e ritornare alla fine in Mid. Qui abbiamo la Scala, che molte volte viene chiamata Ladder. Questo viene chiamato Secret, questo qui qua sotto. Successivamente tenete conto che c'è anche una Ladder qua dentro. Infatti qui sotto si chiama Lower Bedroom, perché sopra qui il Callout si chiama Bedroom. E qua c'è l'altro Ladder. Quindi cercate di specificare quale dei due vi state riferendo. Quindi se quello interno o quello esterno, che è quello che abbiamo visto prima. Successivamente qua sopra abbiamo ovviamente Top Bedroom. Questa zona qui, secondo me, visto che nessuno di solito la chiama, si può chiamare Back Bedroom. Per il semplice motivo che quando voi chiamate qualcuno Bedroom, al 90% vi trovate in questa zona della mappa. Quindi se uno si trova lì dietro, sapete che è in fondo, nelle porte che poi vi fanno entrare su Bedroom. Secondo me quella zona si può chiamare benissimo Back Bedroom. In ogni caso da qui, qua sopra, andiamo su Cat. Perché è l'abrivitivo di Catwalk. Qui sotto abbiamo Couches e la parte lì dopo la andiamo a vedere perché abbiamo detto che facciamo il giro. Qui sopra abbiamo Platform, che è dove è anche P6, vi ricordo. Qua dietro abbiamo poi Back Steps, questa qui. E qua sotto abbiamo Parking. Qui dentro abbiamo ovviamente, come vi ho detto prima, Secret. Ma qui c'è questa zona che si può chiamare Reception. Perché anche qui è lo stesso modello della Reception. E ovviamente chiamerete questa zona soltanto se vi trovate a combattere in questa parte della mappa. Perché non avrà nessun senso chiamare Reception qui quando la maggior parte dei combattimenti avvengono dall'altra parte dove c'è l'effettiva Reception. Che vi ricordo che è quella prima di P2. Tutto questo è Spawn. Poi qua potete chiamare Macchina Rossa, Macchina Bianca. Qua ci sono i Van. Queste sono le piante. E adesso direi di passare qui dentro. Questo è Arco. Qua dentro, come vi ho detto prima, abbiamo P3. E questa è Cucina, molto semplicemente. Qua dentro abbiamo Storage, ma molte volte viene chiamato Freezer. Questa zona viene chiamata Caution, che è quella che poi dà sopra a Catwalk. Però a mio parere, visto che ho sentito molte persone utilizzarlo, ha più senso chiamarla TV. Perché appunto c'è questa TV qua. Successivamente andando qui su Catwalk abbiamo Glass, qua. Che può essere chiamato anche qua sotto, visto che la gente ci sta anche qua sotto. Continuando da qui per poi andare nel Mid. Qui abbiamo Dinner. Questo viene chiamato Inner Ovini. Mi sembra abbastanza ovvio il perché. Qua dentro abbiamo Connector, ma ci andremo dopo per andare in Mid. Perché vogliamo ritornare e finire qua dietro. Che è dove abbiamo qui Shop. Quindi questo lo potete chiamare Front Shop, Back Shop. A seconda della direzione in cui state andando o da cui state arrivando. Quindi poi andando in Mid, passando per Connector. Abbiamo Cube, che è questo qui. Successivamente, come vi ho detto prima, abbiamo Couches in quel punto. Questa è tutta P1. E qui potete sbizzarrirvi voi, comunque, come chiamare questa zona. Vi ricordo che quello lì è Desk. E qua dentro è Statue. O anche, alcune volte, chiamata Libreria. Ma adesso andiamo a vedere, un attimo, le tattiche e le zone migliori da controllare. Io direi subito di partire da P1. P1, la parte più importante da controllare, è sicuramente la zona qui intorno. Infatti, secondo me, se qualcuno riesce a stare qui dentro, e questo lo può fare sia da qui sdraiato, oppure, altrimenti, da qui dietro, servirà assolutamente qualcuno qui in Couches, che controlla questa zona qua. Un altro serve assolutamente qui in doppi archi, per vedere se qualcuno arriva da lì dietro. Oppure può girare e dare un'occhiata lì, perché se arriva qualcuno da lì, comunque il vostro amico che è qua dentro morirà. E sicuramente qualcuno può giocare qui con Nektor, in modo che sta qua dentro, se deve dare un'occhiata a qualcuno che arriva da lì o da televisione. E poi, se vuole, può anche dare un'occhiata qui nel mid, perché, caso mai quello lì in Couches morisse, ovviamente c'è questo giocatore che si trova qui, che può benissimo dare una mano alle persone che si trovano o lì, oppure qui dietro, come abbiamo detto, su Cube. Ovviamente poi, passando in P2, servirà, giustamente, come vi ho detto anche l'altra volta, controllare prima del passaggio alla prossima postazione, già questa zona. Perché almeno vi assicurerete gli spawn vicini. E qua cosa c'è da controllare? Prima di tutto, uno può stare benissimo qua dietro e lo può fare qui, mettendosi magari un trophy o altra roba, tipo qua. Successivamente uno si può mettere qui per controllare là davanti, qua si può fare up and down e tutto quello che vi pare. E sarà veramente difficile farvi uccidere da questo punto. Successivamente, se proprio nessuno riesce a controllare da lì in fondo, potete benissimo fare una roba un po' più interessante, ossia mettere uno qua dietro che controlla queste due zone qui, e poi mettere invece uno che rimane qua dietro allo spawn e gira su Broken e su Spa. E quindi fa un po' una roba del genere, magari da un'occhiata lì, chiama, arriva qualcuno, perfetto, ora ha la scelta di spostarsi lì o persino mettersi qua dietro e fare una bella granata qui dentro, che ovviamente passerà e entrerà dentro a Chandelier. Altrimenti può giocare qui, dove da quel punto vede chi arriva da quella parte, mentre se si trova di qua e rimane nascosto può far passare benissimo le persone, perché molto raramente se uno arriva qui andrà a controllare qui dietro, anche perché di solito le persone giocano in quel punto lì in fondo. Quindi se uno di voi o un nemico pusha qui, di solito me punterà l'attenzione in quella zona là. Se proprio siete organizzati e qualcuno riesce a rimanere small, avete praticamente vinto questa seconda postazione. Ora passiamo verso P3, che vi ricordo è dove c'è la cucina. Qui su P3 sarà importante avere magari qualcuno qui in TV, che farà anche da ancora in questa zona qui. Successivamente un posto interessante può essere questo, in modo che possiate aprire quello spawn e dare un'occhiata se arriva qualcuno, però conviene sempre tenere queste porte chiuse. Ricordatevi ragazzi, tenete le porte chiuse, ci ho fatto anche un video dedicato su come fare meno morti su COD, e ovviamente si basa tutto sulla gestione delle porte. Qualcuno in Freezer serve sempre, in modo che possa controllare se qualcuno arriva da là in fondo, oppure se qualcuno sta arrivando da lì, casomai morisse l'amico che avete in TV. Infine, se proprio non volete usare quella tattica, conviene che due stiano, uno in questa zona e uno in quell'altra, in modo che comunque possiate alternarvi a chiudere la porta. Perché di solito qui viene aperta la porta, viene lanciata dentro una flashbang, e uno dei due sicuramente muore. Quindi, se volete evitare questo, potete magari mettervi in due qua, se non volete usare quella tattica di stare uno qui fuori, uno lì e uno TV, e uno ovviamente dentro. Ora passiamo invece su P4, che sarà questa zona qui. Questa zona qui è veramente complicata da mantenere, infatti è una di quelle dove c'è sempre più scambio. Qui servirà ovviamente uno in spa, che controlla magari se qualcuno flanca, se qualcuno arriva da là in fondo, e poi ovviamente servirà anche qualcuno in reception. E reception ve la potete anche giocare da qui, perché se volete fare una difesa molto più ampia, può stare qualcuno qui, in modo che controlla lì o reception. E qui c'ha gli occhi subito, oppure benissimo anche qui dietro, che è una cosa che mi avrete visto fare moltissime volte. E questo permette al vostro amico che sta qua dietro il reception, di trovarsi una zona un po' più utile, come per esempio magari stare qui nell'angolino a controllare Secret. Se avete invece una difesa molto funzionale e state più in questa zona qui, qualcuno si potrà mettere anche qui e controllare questa parte qui. Visto che comunque, in teoria, se c'è qualcuno in quella zona lì, potrebbe anche non passare. Però di solito gli spawn sono in quella direzione, quindi sicuramente la difesa va più fatta in questa direzione. Infatti, a mio parere, un punto fondamentale da tenere è questa ladder qui. In modo che qualcuno può controllare lì, poi altrimenti può entrare qua sopra, dare un'occhiata a bedroom, casomai ci sia qualcuno, dare un'occhiata lì. Però vi dico già che se vi mettete qua morite, se c'è qualcuno che sa giocare. Poi potete benissimo fare una rotazione veloce, fare da ancora qui dentro e beccare la gente che sta sparando ai vostri amici o comunque che sta andando verso i vostri amici. Ovviamente dovete fare tutto questo sempre se non vi beccano bedroom, perché altrimenti se siete al livello un po' più alto sicuramente qualcuno darà un'occhiata qua sopra su Catwalk. Successivamente, se voi riuscite comunque a controllare questa zona, sarà molto più semplice rispedire la gente allo spawn, perché una volta che li uccidete qua, quello che dovrete fare sarà aspettare qui, permettere allo spawn lì di spawnare e dare un'occhiata qui e magari fare un paio di kill. Già che ci siamo qui, andiamo ovviamente a vedere P5. E P5 sarà un pochino più equa, perché ovviamente se state controllando la zona di desk, la state controllando in modo comunque elevato, la state tenendo da tanto, è difficile che comunque vi ricorderete di andare qua in P5 a gestire tutta questa zona e a pulire questa zona, anche perché loro sponeranno già lì vicino. Quindi, a meno che non andate prima e vi spezzate, però poi rischiate che in P4 ci siano poi dei problemi e ve la rubano. Ma in ogni caso, qui il consiglio migliore è magari mettere uno qua dietro, oppure se non volete stare lì, mettervi o qui, oppure dall'altra parte di qua. Successivamente, uno qui sotto va benissimo, perché se qualcuno arriva da qua in fondo, se chiudete la porta, non è un problema, ve ne accorgete. Se invece qualcuno arriva da qui, molte volte magari non flash, perché magari vuole andare direttamente qua sulla postazione. Se non volete tenerlo da qui, perché vi hanno ucciso, eccetera, potete benissimo chiudere questa porta e tenerlo da qui, in modo che, se aspettate qui, metterete pressione alla persona che sono là. Casomai non volessero venire da qui, perché ci siete voi, non vi riescono a challengeare, andranno di qua, dove magari ci può essere un vostro amico che aspetta qui, o ancora meglio, può aspettare qui dietro. E questa è una zona ottima se state controllando comunque la parte qui di shop, eccetera, o comunque siete arrivati da questa parte di spawn. Un altro punto che molte volte dà fastidio è questo, mettersi qua, dopo che le persone le avete ributtate indietro. Ovviamente non dovrete farvi notare neanche quando la killcam di un nemico è abilitata, quindi vi vede proprio che andate qui, e questo lo potete usare come altro punto veramente comodo. Però qui di importante, a parte la zona qua della TV e la zona qui, non c'è nient'altro da tenere, perché comunque quello qui dovrà sempre fare la stessa roba, quindi fare l'ancora e andare qui, e se riesce magari fare qualche punto in più. Se poi riuscite a mantenere questa zona di mappa, assolutamente ricordatevi che dovrete andare in P6, quindi vi conviene tantissimo. E in P6 ovviamente c'è questo posto che è banalissimo, se poi tenete la parte di spawn potete giocare uno qui, e uno ovviamente qui come supporto, in modo che rimane nascosto qui, ascolta se arriva qualcuno parking, e se poi ci sono dei problemi nella parte superiore si mette qua, tira due spari in questo modo ed è a posto. Un altro molto utile che potete utilizzare è qui dentro, infatti se voi saltate continuerete a cappare la zona. Una roba che potete fare è mettere per esempio qui il tropi, in modo che la gente non se ne accorge quelli che arrivano da sopra, e non sanno effettivamente dov'è il vostro tropi e come farlo fuori. Se invece voi riuscite a ributtare l'indietro e il loro spawn è da quella parte, ovviamente cercate di controllare anche bedroom, molto importante perché comunque qui poi è il punto da dove arriveranno. Altrimenti se volete fare qualcosa di più fuori di testa potete andare su catwalk di nuovo e aspettare che arrivino quelli da lì, perché molte volte vi verrete pushati da questa zona qua. Se invece volete bloccare totalmente il team potete direttamente prendere voi i kitchen, e quindi avendo voi i kitchen avrete il controllo di questa zona qui fuori, e da qui se avete uno di voi che comunque ha armi a lunga distanza ucciderete tutti quelli che arriveranno in quel punto là. E questo è molto difficile da counterare perché comunque se vogliamo riprendere quella zona lì dovrà esserci qualcuno che viene qua, minimo due persone che vanno invece dentro la hill per pulire tutti gli angoli, quindi questa strata è tra le più effettive, però è comunque abbastanza complicata perché dovete comunque avere parte di mappa controllata. Infine per controllo, visto che comunque c'è, l'abbiamo già coperto praticamente nel controllo di P3, parlando di B o di P4, parlando di A, quando controlleremo questa ovviamente non sarà un problema perché si arriva prima da questa parte. È molto semplice prendere A su controllo, anche perché poi se si mette qualcuno qua dentro, ovviamente potete bloccare i rinforzi. Ricordatevi, mi raccomando, e io lo ricorderò sempre ai miei compagni di team, il terzo quadrante su controllo fatelo insieme perché ci si mette veramente un secondo. È veramente velocissimo il terzo quadrante se lo fate in quattro. E se già avete preso due punti, che sia da soli, che sia in due, in tre, mi raccomando il terzo fatelo tutti insieme perché è veramente qualcosa di istantaneo. E poi potete ovviamente passare tutti alla prossima. E la prossima assolutamente da controllare anche la parte di desks. Perché desks è importantissimo? Perché ovviamente ci sono i loro spawn lì. Quindi se voi volete controllare comunque questa parte qui, questa B, che è quella più complicata, assolutamente dovrete assolutamente controllare qui sopra e anche bedroom. Ed è questa la difficoltà di B su controllo, perché è molto molto complicata. Perché effettivamente ci sono molte robe da tenere conto. E quello che potete fare è ovviamente, chi sta bedroom, controllerà small. E chi invece sta qui, potrebbe dare un'occhiata lì sotto, oppure su big door. Perché altrimenti non riuscite. Qua dentro ci dovrebbe stare soltanto uno, magari per il primo. Il secondo, se riuscite, buttatevi dentro. E se avete problemi, alla fine andate tutti quanti insieme e fate, come vi ho detto prima, il terzo quadrante tutti quanti insieme. Perché almeno lo fate velocemente e siete a posto. Per cercare di distruggi, invece, potete utilizzare alcune tattiche di controllo per il semplice motivo che andrete a tenere degli angoli, andrete ad aspettare, oppure andrete anche ad attaccare. E in base a come vi trovate nelle mappe quando giocate le altre modalità, ricordatevi che potete utilizzarlo moltissimo a vostro favore, anche in Chad. Perché molte volte le persone ci giocano allo stesso modo. Quindi molte volte pushano, o molte volte rimangono fermi, come se dovessero veramente controllare una zona di mappa che non ha un senso logico. Però i punti fondamentali di questa zona rimangono comunque, differentemente dalla modalità, desk e bedroom. Quindi se voi controllate desk e bedroom, che sia in controllo, che sia in Chad, che sia in postazione, voi controllate questa zona di mappa. Tenete conto però, come vi ho detto anche prima, che è difficilissimo da controllare. Se invece volete vedere gli spot un po' più particolari che potete utilizzare, o che potete fare per esempio dei salti eccetera particolari, vi lascerò qua sotto in descrizione il video dove vi faccio vedere come migliorare il movement attraversando le mappe in un determinato modo. Dove vi faccio vedere anche Brimberg Hotel e alcuni spottini molto interessanti. Però visto che sono robe che non vengono utilizzate tantissimo e sicuramente i ranked non vi serviranno, non ve le sto neanche a far vedere in questo video per non farvi perdere tempo. Comunque ragazzi, questo è tutto. Spero che comunque vi sia piaciuto, vi sia stato d'aiuto. Mi raccomando, se così è stato, lasciate un bel like, un commento e condividete. Perché, come vi ho detto anche l'ultima volta, in questo periodo YouTube non invia le notifiche. E comunque con una serie del genere che è più specifica e più per magari persone che gli interessa giocare il ranked eccetera, sicuramente una condivisione con i vostri amici del team vi farà più che bene. In modo che siate tutti sulla stessa pagina e conoscete comunque tutti quanti i call-out eccetera di Brimberg Hotel. Noi ragazzi, noi ci becchiamo al prossimo video. Bella rega.